Resta al suo posto alla guida della Sanità Service di Bari il manager Francesco De Nicolo. Lo ha deciso la ASL che controlla la società sanitaria dopo aver ascoltato in una riunione a porte chiuse la denuncia del sindacato USPI che chiedeva la testa del direttore per una serie di gravi irregolarità. De Nicolo guida una delle sei Sanità Service pugliesi deputate ai servizi di mensa, ausiliariatu e pulizie negli ospedali. Secondo il segretario Brescia commetterebbe errori e violazioni nella gestione del personale trattato sul filo del mobbing. Ad esempio l'utilizzo di ausiliari al posto di ostetriche o infermieri. Inoltre percepirebbe uno stipendio d'oro, 11.000 euro mensili più la pensione da ex dirigente ASL oltre a collezionare una serie di sprechi tra cui l'assunzione di consulenti inutili. Il direttore ASL Melli alla fine ha predisposto in capo ai coordinatori di area una verifica sulle mansioni degli operatori in organico e in caso di violazione il ripristino di compiti e ruoli. Sul compenso di De Nicolo invece la cifra è risultata inverosimile. Sono 4.000 euro mensili, mentre per la pensione si è in attesa della sospensione dopo i chiarimenti chiesti sul caso alla funzione pubblica del Ministero del Lavoro. L'unico consulente ingaggiato invece è un ingegnere con un contratto in scadenza a dicembre. Il vertice in fin dei conti è servito solo a far infuriare il resto dei sindacati non invitati dalla ASL ad affrontare i tanti problemi delle sanità service.